è un legame enorme, indissolubile, fortissimo e potente, deve essere però coltivato proprio per questa forza, proprio per questa potenza e fragile. Una campagna per incentivare il congedo di paternità nella città di Napoli. Si chiama EMINC ed è un progetto internazionale promosso in Italia dal Centro per la Salute del Bambino. Ho potuto adottare Alba appena a 27 giorni di vita e per me è stato importante essere vicino alla sua crescita nei primi mille giorni. Ho avuto questa fortuna di poterla crescere da solo e di poterla vedere crescere in maniera serena e felice, ma questo non avviene a tutti i papà. Il termine secondo me adatto a questo congedo è accontentarsi. Non mi sembra giusto che un papà, un neopapà, gli debba essere messo a disposizione soltanto un congedo che prevede 10 giorni. La legge italiana riconosce alla nascita di un figlio 5 mesi di permesso retribuito alla madre e 10 giorni al padre. Il progetto punta ad una più omogenea divisione della cura fra i due genitori. Grazie al lavoro che faccio, particolarmente flessibile, ho avuto la possibilità di stare accanto ai miei figli sin dai primi giorni di vita. Chiedo sia giusto che tutti i padri possano avere un canzone del genere, perché stare accanto ai propri figli, alla propria famiglia, soprattutto nei primi anni di vita, è un'esperienza irripetibile. Grazie a tutti.